Ciao amici di Gorissa TV, mi hanno detto vai in via Trieste e vedrai che strada che è, allora io scrivo via Trieste, ecco com'è la siata, piena di buchi e anche pericolosi, vedrete nel finale un buco veramente che è dell'altra parte. Allora siamo in via Trieste, qua c'è il cartello dei lavori, perché c'è gente che ha detto vai a vedere via Trieste come l'hanno lasciata dopo i lavori, allora andiamo a vedere, ecco questo è via Trieste. Questa è la siata dopo i lavori, guardate un po', adesso io ve la faccio vedere tutta, così, ciao, vedete, questa è via Trieste, Piena di buchi, guardate che roba, stratosferici, buchi stratosferici, io sto proprio attenti, proprio tanta attenzione cari amici, guardate che roba, questa è via Trieste, guardate, guardate, tutto un buco, ma vedremo se asfalteranno, comunque questa è via Trieste, qua c'è il battaglione dei carabinieri, ecco, sempre via Trieste, guardate, via Trieste, via Trieste, buchi a pieno, eccolo, qua, altri buchi, e dopo non capisco perché ho fatto questa, questa spartizione del traffico qua, per cosa, per cosa non si sa, guardate un po', per cosa non si sa, questa spartizione, veramente, vabbè, ci hanno pensato loro, qua c'è la caserma, la caserma, lì sono finiti i lavori, diciamo che questo, questa è via Trieste, qua ci sono varie cose, chiudiamo qua, perché non ho voglia di andare fino laggiù in fondo, chiudo qua il servizio, questa è via Trieste, Invece, è la strada nuova, eccola, dove c'è l'Eurospin, nuovo, bellissimo, ha fatto bellissimo, eh, vedete, finalmente si può andare a trovare i morti, i defunti, perché a me non mi sembra che sia aperto tutto, perché in quell'epoca una bicicletta non poteva andare, non poteva andare a passare il ponte, eccolo qua, questa è via Trieste, il ponte è stato rimodernato, vedete, traffico, bestiale, adesso si può andare a trovare i defunti, finalmente, i vostri morti, cari amici, potete andare tranquillamente con la bicicletta, vedete che è tutto a posto, guardate, si segna andare a 30 l'ora, ecco qua, vedi, però i camion passano di brutto, guardate che roba, come che corrono, eh, traffico, bestiale, e chiudiamo qua, traffico, guardate che traffico, eh, mi ha beccato una zanzara, potrebbe andare a farsi benedire, vedete che traffico, e chiudo qua, col traffico del ponte, via Trieste al ritorno, ma guardate che buco, diciamo, è un buco veramente impressionante, se uno va a una bicicletta o qualcosa, veramente cade una moto, è una cosa pericolosissima, guardate che servizio, guardate che bucchi che ci sono, molto pericolosi, via Trieste, grazie a tutti,